Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha provato in tutte le maniere a ricompattare il centrodestra, ma non ci è riuscito, almeno per il momento, e dopo l'arrivo in comune della Commissione di Accesso, che nei prossimi mesi accerterà la presenza o meno di infiltrazioni mafiose, subisce il colpo interno alla sua coalizione con la mancata elezione di Lucio Ventura, presidente del Consiglio Comunale. Tuttavia Landella ha già avviato un confronto con i partiti del centrodestra per verificare se ci sono ancora le condizioni per proseguire l'attività di governo. Intanto si susseguono le reazioni, il primo a parlare è proprio Lucio Ventura, appuso ringraziando tutti i colleghi del centrodestra che mi hanno onorato votandomi. Ha detto Ventura, devo ammettere che ieri la politica ha perso una grande occasione per dimostrare di essere ancora capace di decidere, perché quello che si votava non era una nomina partitica ma istituzionale. Il presidente, ha commentato Ventura, è il presidente di tutto il Consiglio, maggioranza e minoranza. Brutto momento per la politica foggiana, aggiunge il segretario provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro. In un momento particolare, come quello che stiamo vivendo, dobbiamo andare oltre le appartenenze politiche. Con tutti i soldi del Recovery Fund in arrivo, immaginate un comune senza guida politica. Come farebbe a gestire il tutto. Chiedono dimissioni, invece, tutti i partiti dell'opposizione, dal PD al Movimento 5 Stelle, a Italia in Comune. Il sindaco Lamdella deve solo prendere atto che non ha più una maggioranza in Consiglio Comunale e quindi deve rassegnare le dimissioni. Dimissioni chieste anche dall'ex presidente del Consiglio, Leonardo Iaccasino.